Nel giorno di Santa Lucia, il 232esimo reggimento della Giserma Berardi di Avellino ha celebrato il precetto di Natale nel Santuario del Rosario. La messa è stata ufficiata dal cappellano dell'esercito Don Cosimo, coadjuvato da padre Giovanni Matera, Don Pasquale Iannuzzo e Don Enzo Spagnolo. Si è trattato di un evento che ha coinvolto le rappresentanze di tutte le forze dell'ordine militare della provincia, le associazioni di ex combattenti e volontari impegnati nell'assistenza a malati e disagiati e rappresentanti istituzionali. Dall'altare Don Cosimo ha lanciato un messaggio di speranza e di pace per le popolazioni vittime della guerra, una preghiera per tutti i militari e le loro famiglie impegnate sui fronti dei conflitti internazionali per riportare la pace nel mondo. La Santa Lucia patrona degli occhi, uno sguardo di protezione per le comunità martoriate dalle guerre, ma anche una carezza per gli ultimi al fianco dei poveri che vivranno questo Natale tra macerie e miseria.